Avevano scelto un camping di Capaccio Pestum, il Raggio Verde, per mettere a segno una razzia alle quattro persone, tre donne, Maria Sacco di 21 anni, Barbara Colmaier di 25 e Concetta De Mano di 53 anni, ed un uomo di 23 anni, Ciro Brancaccio, tutti arrestati in fragranza di reato la scorsa notte dai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo. I quattro, provenienti dall'Interland del capoluogo campano, si erano introdotti nel complesso balneare Raggio Verde, in via degli americani sul lungomare di Capaccio, da dove avevano portato via superlettili di vario genere, per un valore stimato in circa 4.000 euro. Caricata l'auto con cui erano giunti sul posto, scoperti dal titolare della struttura, ne è nata una colluttazione seguita dal tentativo di fuga a bordo di un'auto, durante il quale la persona alla guida ha cercato anche di investire il titolare del campeggio, che si era messo di fronte l'auto per bloccarne la marcia. Per lui i sanitari hanno pronosticato tre giorni di prognosi. In ragione di ciò, a carico del conducendo, è stato ipotizzato anche il reato di rapina impropria. Tempestivo è provvidenziale l'intervento dei carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, diretti dal logotenente Serafino Palumbo, che li hanno portati nelle camere di sicurezza della stazione di Capaccio Scalo, con l'accusa di furto aggravato e rapina impropria.